Renzo Caponetti, ancora una volta Gela al di là dello stretto continua a ottenere successi importanti anche a livello agonistico perché avete partecipato al memorial dedicato all'agente di polizia Stefano Biondi a Milano Marittima, avete battuto la polizia per 3 a 0 e avete portato il trofeo in città. Sì, questa è una grande soddisfazione per l'associazione Adirac di Gela che con lo slogan già ormai rinomato da dieci anni a questa parte diamo un calcio alla mafia, lo ha evidenziato ancora di più nello stadio dei Pini a Milano Marittima dove effettivamente abbiamo avuto un'accoglienza calorosa dai Ravennati e soprattutto anche dalla Questura, dal SIULP che si è fatto carico di questa nobile partita perché come sapete è stata devoluta poi tutti gli incastri a Teleton e poi al poliziotto ucciso nel 2004 durante un'operazione di polizia. Ma la cosa importante che voglio, desidero sottolineare è che i nostri ragazzi, la nostra squadra che voi tutti sapete ormai sono già dal 2005 con noi che hanno la loro età, variano dai 40 ai 52, 53 a 54 anni e sono scesi in campo emozionati, ma emozionati perché hanno visto degli atleti che noi vedevamo nella Serie A, parlo io di Alessandro Bianchi, di Ruggeri Rizzitelli e quindi erano emozionati nel giocare contro di loro e quindi la partita ha avuto ancora una marcia in più si sono complimentati all'ultimo, abbiamo vinto 3 a 0 ma all'ultimo la cosa sorprendente è che i due calciatori di Serie A si sono complimentati con i ragazzi per la combattezza e la professionalità con cui hanno operato in campo. Per voi non esiste la frase ricorrente, l'importante è partecipare per voi l'importante è vincere? La solidarietà è sempre quella che parte in campo però noi onestamente lo diciamo, chiunque io penso che fa una partita lo fa per vincere e noi ce l'abbiamo messa tutta grazie anche alla preparazione del nostro mister Rocco Fici ma ci siamo spostati con tutto lo staff intero quindi con noi è stato anche il massaggiatore Franco Vella e poi i protagonisti dei gol che sono stati Dario Di Dio Salvatore Tomasi e Giovanni Russello sono stati grandi ma dietro a questa c'è stata tutta la preparazione di tutti gli altri dietro che hanno collaborato. Considerato che vincete ovunque, perché non iscrivete una squadra in un campionato dilettantistico? Onestamente ci era venuto in mente di iscriverli alla terza categoria solo che iscrivere alla terza categoria ci vuole un certo impegno da parte di tutti i giocatori significa che la domenica loro non devono stare assolutamente a casa i giorni poi durante la settimana si devono allenare e questo onestamente devo dire che non ce lo sono sentiti i ragazzi.